Pearson è precipitato in un abisso e pare che voglia trascinarmi giù con lui, ma devo stare lucido, fratello, se ti voglio rendere orgoglioso. Basta per te. Che cosa vuole? Basta per te. Tieni. Che cazzo stai facendo, giù? Lasci stare, sergente. Cos'è, eh? Ti piace così? Sei contento? Molto contento. Io di puttana. Sergente. Ehi, stanne fuori. Ehi, ferma! Decision! Decision! Non ne vale la pena. Daniels! Stupido crocco, perché sei scappato? Ci nasconde qualcosa? Lo stronzo aveva questo addosso. Fa vedere. Che cazzo c'è scritto? Sono ordini di piazzare esplosivi sul ponte di Remagen. Gli ordigni saranno caricati su camion 5.000 a nord da qui. Secondo quello che c'è scritto, è l'ultimo ponte ancora intero sul Reno. Beh, grazie dell'aiuto, Prince. I camion nemici con gli esplosivi passeranno di qua. Non devono arrivare al Reno. Pearson vuole bloccare la strada abbattendo gli alberi. Dov'è Pearson? Sarà nascosto da qualche parte con il detonatore. E il suo whisky. Sai cos'è peggio dell'alcol? L'ipotermia. Non so se ci muoviamo. Stiles, con il gruppo di Pearson. Che cool. Daniels, Jusman, aiutatemi a piazzare l'ultima carica. Poi attaccheremo i camion. Ha fatto. Fortuna, abbiamo trovato quelle informazioni. Un altro passo verso il Reno. Adolf, ha il nostro fiato sul Collomb. Ora pensiamo a fermare quel camion. Qui ci penso io. Voi controllate se arrivano i camion nemici. Dennis, dovete ne vai? Ecco il segnale. Arrivano i camion. Trasporto i nazisti lungo la strada. Auward, sali quassù. Cariche innescate e pronte al segnale di Pearson. Aspettiamo che sia l'imposizione. Frizz avrà una bella sorpresa. Via, via, via! Plentiamo break-up! Non ti lascio qui. Ruotami via da qui! Teni duro. Mi hai salvato la vita! Mi hai salvato la vita! Stai, mi hai salvato la vita! Mi hai salvato la vita! Sulla strada! Ho fitto, tutto per te! A Pasqua! De qua! Prendi! Vedo tedeschi sul reblo. Tutti ieri. Oh, no! Useremo questo camion per entrare nella base aerea e distruggere gli esplosivi. Aiello, tu sarai alla guida. Aiello, ripulisci la strada. Spostati, prezzo, io. Stiles, tu vieni con me. Passeremo dai cancelli alle tre. Portatevi in alto per coprirci mentre distruggiamo quegli ultimi camion. Ehi, bocche chiuse, e occhio alle pattuglie. Andiamo! Ci sono due posizioni elevate vicino all'ingresso. Possiamo arrivarci senza farci vedere. Silenzio, i crocchi sono ovunque. Bene, ora troviamo un punto elevato vicino al cancello. There! Ci sono. Alla scatola in giro... ... Grazie a tutti Guarda, il comandante della base. Esco lo scoperto! Dobbiamo portarci più in alto! Bene, ora troviamo un punto elevato vicino al calcello. Guarda, è il comandante della base. Voi? 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 Grazie a tutti. 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 Pearson è arrivato al cancello. Pearson avanza verso il camion! Grazie a tutti. Fermiamo quel camion! Spara all'autista! Ufficiale tedeschi in arrivo! Secondo piano! Al balcone! Ci sono! Aiuta Pearson! Aiuta Pearson! Pearson è bloccato! Aiutalo ad arrivare agli esplosivi! Pearson è il primo camion! hanno distrutto il camion! Andiamo alla prossima posizione! Andiamo alla prossima posizione! Seguimi! Pearson è il primo camion! Andiamo alla prossima posizione! Pearson vuole che prendiamo quella torre per dare supporto dall'alto! che prendiamo la torre per dare supporto dall'alto! Andiamo alla prossima posizione! 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 usa una granata raggiungiamo quella torre raggiungiamo 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 la torre è più avanti qui qui al volo granate fumogini daniel butta qui ecco a te ok lo vedo tu sali lassù daniel usa la 42 daniel anche quello è lo scoperto E' sta ripiegando! Cazzo! Non ci vanno leggeri con i prigionieri ebrei. Sta calmo, andrà bene. C'è mancato poco, stai bene? Hanno preso Ziusman. Mi spiace per il tuo amico, ma c'è un ultimo camion da eliminare. No, 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 toglitelo dalla testa! Hanno preso Ziusman! Prima la missione! Non l'ho fatto! Devo raggiungere quel camion! Devo raggiungere quel camion! VK! Soli di siena! Nel dottor sinistro! Deportivo! Nel dottor nec! Arribano! Devo raggiungere quel camion! 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 Diplotkatrivaldiart su Oscar per Salina angefangense! Sono passate otto settimane dalla cattura di Ziusman. Mi sforzo di non perdere la speranza. Signore, mi dica, che hanno trovato Ziusman? Mi piacerebbe, figliolo. Pearson se ne è fregato di lui, come dei suoi uomini a Kasserin. Kasserin? Non hai capito niente, soldato. Pearson aveva l'ordine di ritirarsi, ma alcuni dei suoi erano intrappolati al passo. Non voleva andarsene senza di loro, perciò ho chiamato rinforzi. Non sono arrivati in tempo e il suo plotone è stato massacrato. Non è stato più lo stesso. Ma non devi più preoccuparti di Pearson. Te ne torni a casa. Mi aspetta la corte marziale, signore. L'esercito non ne uscirebbe bene se punisse il soldato che ha contribuito ad accelerare l'intero sforzo bellico. Proprio così. Grazie alle informazioni che hai preso da quel prigioniero, abbiamo trovato l'ultimo ponte sul Reno. Un'azione degna di una stella di bronzo. Sei un eroe a tutti gli effetti. Bentornato, Red. Da adesso in poi non ti perderò mai più di vista. Capito? Caporale. Sì, signora. Sì, signora. Va tutto bene, Red. Parliamo o andiamo a caccia? Dovresti essere orgoglioso. Sei fatto valere, senza paura. Sei un vero uomo. Che sensazione fantastica, vero? Affrontare l'inferno e tornare a casa da eroe. Red. Red. Sei un eroe a tutti gli effetti. Fino alla fine. Fino alla fine. Sono stato congedato. Ma peggio ancora, Ziusman è stato preso dai crocchi. Non posso abbandonarlo, Anche se sto per tornare a casa.